Comprensorio sanitario di Brunico, tre i nuovi primari nominati per garantire un servizio ancora più efficiente e professionale alla popolazione del posto. Herbert Hanni assumerà la dirigenza del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Brunico e San Candido. Marcus Huber sarà il primario del servizio psichiatrico. Gregorio Runger sarà il primario del reparto di neurologia. Un fondamentale passo in avanti verso il miglioramento dell'offerta sanitaria che già avanta a livelli invidiabili se messa a confronto con i paesi e le regioni limitrofe. Devo dire che all'interno dei nostri ospedali si lavora veramente molto bene, anche i medici di base, ma tutti quanti, le farmacie eccetera, tutto il sistema di sanità e di salute in alto radice lavora bene. Naturalmente ci sono anche qualche punto, io li chiamo punti d'accesso come il punto soccorso di Bolzano, ma come anche altre cose come il CUP, il centro di penaltazione unico e tante cose che sono da migliorare. Questo faremo nel futuro. Per il compressorio sanitario di Brunico è stato un giorno di gioia confermando l'attenzione anche ai centri periferici. Abbiamo una popolazione che grazie anche alla buona assistenza sanitaria ha una durata di vita più lunga, perché anche gente più anziana che a maggior ragione ha bisogno di un'assistenza al posto e che non deve fare lunghi viaggi o spostamenti repentini, per cui è importantissimo per noi avere tutti questi poli ospedalieri adeguatamente coperti come ruoli apicali e in questo modo garantiamo una buona assistenza in loco per la popolazione. Herbert Hanni ha lavorato per più di 20 anni in qualità di medico specialista in ginecologia e ostetricia. Hanni porrà particolare attenzione alla senologia, così come anche alla procreazione medicalmente assistita. Torno a casa e vorrei continuare con il lavoro che hanno già fatto i miei colleghi prima di me. Importante per me sarà portare avanti il centro di riproduzione, cioè il PMA, che è il centro di competenza per l'Alto Adige qui all'ospedale di Brunico. Un ulteriore progetto che vorrei portare avanti è installare un centro di endometriosi. Marcus Huber si è specializzato in neuropsichiatria infantile. Inoltre è un esperto in psicoterapia e terapia sistemica familiare. Abbiamo quattro strutture, un ambulatorio, il CSM, un reparto psichiatrico, l'SPDC e due strutture riabilitative che possiamo utilizzare per l'assistenza dei nostri pazienti. Gregorio Runger vuole concentrare il suo lavoro sul progetto interdisciplinare Stroke Unit per il precoce trattamento dei pazienti con ictus o sospetto ictus. Cercheremo di continuare il lavoro che abbiamo fatto finora e cercheremo di incentivare il lavoro sullo stroke che è gli accidenti cerebrovascolari. L'ictus si chiama anche e noi cercheremo di essere più veloci nell'aiutare questi pazienti nel nostro ospedale. Soddisfazione espressa dal direttore sanitario Thomas Lantaler per il fatto che sia stato possibile poter ricoprire i posti vacanti a Brunico in tempi relativamente brevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.